La vita venosa sia abbastanza, non lo so, scarsa. Penso che sia piuttosto soddisfazio adesso. Ci sta bene da pensionare. Solo da pensionare può stare bene. Abbastanza buona. Si potrebbe migliorare. Qualità accettabile dal punto di vista sicuramente economico delle materie prime. Io penso che Venosa sia un paese ancora vivibile. Venosa è bellissima, mi piace tutto di Venosa. Il rapporto qualità prezzo della vita. Il verde, anche se non è gestito. C'è una piazzurra, c'è una piazzurra, c'è una piazzurra, c'è un prattadese che è magnifico. Il fatto che sia pereggiante, che tutto faccia questa ragioncettiva. Anche per l'enogastronomia. Vado a dimostrare bene. Finanaggiatura. Sì. Un po' da bicicletta in generale. Ho due locati. Certo. Di solito sono in da affarata per lavoro, quindi supermercati, commerciati, strettanti. Dalle commissioni agli usi ricreativi. Troppe mani, andate a piedi, andate in bici. E' fattibile, ma non è fattibile per i venosini, perché non si sofferebbe più. E' uno spreco che vengono utilizzati così tanti automobili, spazi, anche a livello turistico. Ci dico che bisognerebbe regolare insieme ai commercianti l'orario. Sì, perché è tutto facilmente raggiungibile, è proprio più bello, si ha anche un modo di versicciare. Se le piazze di Venuta venissero però realizzate, si renderebbero necessarie altre strade per andare da un punto a un altro. Usando la bici, almeno diminuiamo un po' per l'aria. E daremo più vita, più pazzo e più ossigeno ai nostri centri storici, comprese le piazze. Grazie per la visione!